Mi chiamano Jack lo squartatore, e sì, forse è un nome che fa tremare le persone, ma per me è un titolo di gloria. Quando mi chiedono cosa mi abbia spinto a uccidere, la risposta è semplice, il potere. Nell'oscurità di Londra, io ero il signore incontrastato. Ogni vittima una dimostrazione della mia supremazia su quella città nebbiosa e decadente. Nessuna emozione quando affondavo il coltello nelle carni delle mie vittime. Solo tanta eccitazione per la mia abilità. La mia fama e il terrore si diffusero incontrollati, eppure nessuno sapeva chi fossi veramente. Ero un fantasma che si aggirava tra le vie di Whitechapel, e ora che la mia storia è diventata leggenda, posso guardare indietro con fierezza. Perché, anche se il mondo mi ricorda come un mostro, io so di essere stato molto di più. Sono stato il re di Londra, e nessuno potrà mai togliermi questo titolo. Grazie. 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 Grazie.